con luigi aruano il portiere delle tt santa marinella vincente per 3 a 1 contro l'anni nuovi ciampino forse l'hai saputo l'ultimo che avresti giocato titolare ma t'abbiamo visto dal primo all'ultimo intervento non solo con la testa in campo ma anche controllare le teste dei difensori che si sono mossi bene davanti a te per buona parte della gara grazie di questo complimento sì non pensavo di giocare pensavo che rolando si sarebbe ripreso ma purtroppo è andata così per fortuna per me che è la prima volta che gioco di totale in serie c1 il serie c1 è più facile rimanere concentrati quando per lunga parte della gara lani nuovi ciampino vi costringe a rimanere nella vostra metà campo c'è più facile avere la testa sull'azione come l'hai avuta tu chiamato alla fine non tantissime volte in causa ma nelle grandi squadre i grandi portieri sono chiamati a pochi decisivi interventi alla fine beh pensavo che nel primo tempo avuto molto era molto agitato come ho detto la prima volta però nel secondo tempo mi sono ripreso e abbiamo già molto 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 bene qualche passaggio di troppo abbiamo visto sbagliato da tangini uno che di solito è molto sicuro e molto preciso non è stato nemmeno aiutato da un infortunio dovrà cambiare questo piccolo fondamentale volevo chiederti in vista della partita col tcp parioli adesso siete terzi avete scavalcato questa che comunque una diretta concorrente è quello che ci dicono le statistiche almeno inizio anno sì sì siamo secondo me tangini è tranquillo ha sbagliato ma è un campione comunque quindi non credo che avrà problemi a riprendersi subito grazie soprattutto la sincerità e complimenti per la gara a luigi aruano grazie grazie